Buone stelle da Radio.Zero, la miglior radio del Friuli Venezia 2. Venerdì 25 febbraio, ben ritrovati nell'oroscopo del giorno in compagnia sempre delle stelle di Radio.Zero. Iniziamo subito con le ultime novità. Ariete, una giornata scorrevole e produttiva quella di oggi. In serata avvertirete una certa stanchezza e solo e solamente con l'impegno riuscirete a concludere quanto iniziato. Alta allenante l'equilibrio, variabile l'umore oggi. Sono le piccole grane quotidiane in effetti che vi nervosiscono un po' di più. Toro, inseguendo la vostra idea di felicità potreste peccare un po' di egoismo o perdere occasioni speciali. Alla fine avviate fiducia nella vostra inventiva. Un'amicizia amorosa potrebbe darvi molto, moltissimo, risvegliando piacevoli sensazioni e la voglia di sorridere. Gemelli, la vita di relazione vi impegnerà più del solito. Dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Entusiasmi intensi arricchiscono poi, seppur disordinatamente, il quotidiano. Datevi tempo per elaborarle. Cancro, il mattino a loro in bocca, lo sappiamo. Sfruttatelo per lavorare, per studiare o per concedere altrimenti un po' di tempo a voi stessi. In seguito avrete solamente voglia di riposare. Con calma e pazienza in più potreste smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte dell'ambiente. Leone, concreti e anche convincenti, potete conquistare il vostro pezzo di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà sono invece un po' più complicati, quindi agite con calma. Il settore professionale è in primissimo piano al momento. Sullo sfondo la sfera affettiva, forse un po' poco gratificante. Vergine, risveglio lento e graduale, ma rassicurante alla fin fine. Bene, con il passare delle ore riconquisterete l'equilibrio che vi consentirà di trascorrere un fine settimana divertente. L'amore vi sostiene in questo periodo. Non lasciate però che le beghe pratiche sottraggano a forza le emozioni, mi raccomando. Bilancia. Tutto può essere cambiato, soprattutto quello che non va. Naturale che facciate fatica a star dietro agli avvenimenti. Si sosseguono così freneticamente. La curva nel grafico della professione in più è ascendente. Accordi, proposte, proficue collaborazioni saranno di certo all'ordine del prossimo periodo. Scorpione. In campo pratico potete concretizzare moltissimo e ottenere anche riscontri economici, ma è necessaria ricordate una riflessione sulle iniziative da prendere. Le problematiche sentimentali allo stesso modo vanno subito risolte. Accettate l'evidenza e rimboccatevi il cuore. Sagittario. Un venerdì soleggiato per quanto riguarda lavoro, affari e contatti. Nuove amicizie, incontri e progetti vi apriranno davanti nuove prospettive. Se cercate un'occupazione poi la situazione è promettente decisamente, ma rivolgetevi verso ambiti diversi dal solito, consigliano le stelle. Capricorno. Le sfide professionali vi impegnano parecchio, ma siete ben protetti dalle stelle e da chi apprezza il vostro operato. Una fase lenta ma costruttiva alla fin fine. L'ambiente è pieno di chiacchiere inutili, ma voi mirate dritti al vostro scopo. La felicità, ricordate, non è un'utopia. Acquario. La confusione in casa regna sovrana? Per fare ordine e disciplinare i vostri pensieri avete bisogno di comunicare, confrontarvi con gli altri e scrivere. Un viaggio per scambiare impressioni ed esperienze vi aspetta. Muovendovi vi caricherete anche di nuove energie. E chiudiamo infine con i pesci. I semi messi a dimora crescono finalmente, rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica, quella che avete di fronte. Riguadagnerete così autostima e fiducia nelle vostre capacità. La vostra cassetta degli attrezzi contiene creatività, adattabilità, fortuna e buoni amici. Voi fatene buon uso. Ed è tutto quindi anche per oggi. Dalle nostre stelle noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, un buon fine settimana e buona fortuna. La miglior radio del Friuli Venezia Giulia.